Torna nel mirino della giustizia russa l'ex patron di Yukos, Mikhail Khodorkovsky. Gli inquirenti sospettano che l'oligarca possa essere il mandante dell'omicidio del sindaco della città siberiana, dove aveva sede il suo colosso petrolifero. Residente in Svizzera, dopo essere stato graziato da Putin due anni fa, è stato convocato in patria l'11 dicembre.